buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo scopriamo insieme le creazioni in resina allora prima di cominciare nel video di ieri c'è stato un problemino mi avete detto in moltissimi che non avete ricevuto le notifiche per il video appunto e quindi volevo fare quella cosa che hanno fatto tutti che mi sono sempre dimenticata di fare è consigliarvi di appunto attivare bene le notifiche se magari non l'avete fatto ve lo faccio vedere dal cellulare e dal computer la stessa identica cosa allora dal cellulare sul mio canale vedrete questa campanellina cliccandoci sopra vi chiederà se volete attivare le notifiche io vabbè le ho disattivate su youtube quindi non me lo fa fare comunque basterà cliccare lì e dire di sì stessa cosa nei computer nello schermo grande c'è comunque a destra il fatto iscritto qui ci sono il numero degli iscritti e c'è sempre la campanellina e da lì potete attivarle vi consiglio di farlo per non perdere i miei video se vi interessa ovviamente bene ora possiamo cominciare allora ho usato vari stampi che avevo già e anche alcuni che mi sono stati regalati in fiera da alcuni di voi sabato e domenica come vi avevo detto tempo fa immaginavo che arrivata ad un certo punto non sarei più riuscita a fare i video dei regalini perché erano tantissimissimi e quando sono veramente tantissimi mi riesce veramente difficilissimo farlo comunque vi faccio vedere alcune alcuni stampi e alcune cosine creative che mi sono state regalate appunto e ve ne parlerò man mano che le vediamo allora intanto per cominciare voglio usare voglio tirar fuori questo con la pasta yumaru che avevo usato l'altro giorno che avevo creato anzi l'altro giorno e l'ho fatto di un colore alla cavolo perché mi ero totalmente dimenticata di averlo l'ho visto lì alla fine ho detto oh guarda c'è quell'ello kitty vediamo di usare un film della resina di scarto perché ormai non l'avevo fatta oddio non è così facile da tirar fuori aiuto ok allora allora già da qui si vede che vabbè a parte che l'ho diventato un po' storto perché per tirarlo fuori ho fatto fatica e ancora un po' morbido i dettagli non sono venuti molto bene cioè gli occhi tipo si vedono poco il naso il naso non è fatto molto bene in effetti anche nello stampo si vede e in effetti guardandolo bene forse non è storto perché l'ho storpiato io ma perché è proprio storto nello stampo il fiocco si insomma non è il massimo vabbè ma io ho provato questo stampo questa tipologia di stampi solo per farvi vedere un attimino come era così ma immaginavo che non sarebbe stato comunque come uno stampo del genere poi tiriamo fuori questa che è la polaroid e l'ho fatta con dei brillantini molto strani molto carini secondo me che mi sono stati appunto regalati allora mamma mia sei duro ce la posso fare prima o poi mi taglio io con queste creazioni durissime taglienti ok allora non so quanto si possa vedere ma oltre ai glitter bianchi ci sono anche quelli neri ecco così si vede ed è appunto questa confezione di glitter che mi è stata regalata ad una di voi con questi glitter sia bianchi che neri che fanno un effetto molto molto carino e poi dietro ci ho messo un po' di nero con i brillantini e si vede dal cuoricino questo qui dai molto carina e guardate questa cosa è successo mio dio è un disastro l'ho fatto proprio con i colori di scarto ed è veramente un disastro e insomma no vabbè allora questi due colori stanno anche bene insieme questa specie di verde dorato insomma e più che altro essendo che questi questa resina che ci ho messo era molto dura ho fatto fatica a metterla e quindi ci sono venute varie bolle e vabbè niente era solo una prova cavolo se questo colore fosse stato più bello però era carino peccato vabbè poi questo stampo che ho comprato tempo fa non mi ricordo sì mi sa che avevo già provato ad usarlo ed era venuto male poi ho voluto riprovare ma io con questo colore blu che vedete volevo solo fare questi dettagli in rilievo ma la resina della reschimica che uso è un pochino più cremosa invece che liquida delle altre quindi non sono riuscita e l'ho messa dappertutto però dio è bellina sapete cosa potrei fare potrei colare della resina in tutti i dettagli qui che tanto è facile appunto basta evitare gli effetti rilievo e ci colo un po' di resina qui così diventa veramente bellissimo perché questa farfalle è molto carina è un peccato non farla mai solo che questo stampo è parecchio difficile da usare con questi dettagli minuscoli poi altro stampo che mi è stato regalato questo qui ho fatto un po' fatica a colare la resina ma ce l'ho fatta quindi adesso tiriamo fuori vediamo come è venuto oddio togliendoci i dettagli è veramente carino vabbè ho fatto un po' un disastro perché comunque era molto sottile però è molto bello c'è anche la texture del legno proprio ehi cosa è successo no cavolo in questo punto non ce l'ha resina dannazione e vabbè dai riproverò a farlo ma è molto molto carino mi piace poi abbiamo questo io non mi ricordo ragazzi se l'avevo già fatto è impossibile di no perché mi piaceva troppo quando ho comprato la chiave del tempo di Sailor Moon avevo comprato anche questo l'avevo già usato mi pare comunque vabbè ok oh mi piace sempre da morire si sono colorate un po' male le ali perché sapete che lo smalto sul silicone dà sempre un po' di problemi perché si rinsecchisce e si assorbe quasi e quindi rimangono dei punti un po' vuoti però vabbè ci passo del bianco ed è bellissima la chiave di Cardcaptor Sakura è bellissima adoro adoro molto bene ho rifatto la mia cara conchiglia e oh mio dio ragazzi penso che sia la prima volta in 70 non so quante puntate che faccio un verde decente cioè di solito i miei verdi mi vengono tutti tipo verde militare una roba del genere questo guardate che bel verde mi è venuto e l'ho fatto semplicemente mettendo una goccina di colorante quello liquido verde e del pigmento in polvere bianco è bellissimo sono molto contenta adesso oh mamma non è ancora totalmente asciutto quindi farò un po' fatica a tirarlo fuori ok ce l'ho fatta ovviamente con il verde ci abbino il rosa perché mi piace da morire ma vabbè questo stampo lo amo viene sempre bellissima mi piace tantissimo il verde e il rosa e poi vabbè si questo verde sono commossa ragazzi dopo 70 e passa puntate sono riuscita a fare un bel verde bene da oggi in poi userò anche più il verde ora che ho trovato come farlo bene è bellissima mi piace un sacco no basta ok poi vediamo per ultimi lascio quelli con gli sticker come al solito questo era lo stampo che avevo fatto io quello con luna di sailor moon ma stavolta ho provato a fare diana che è la gattina grigia che sarebbe appunto la figlia di luna artemis e ma ci sono delle macchie qui cavolo non avevo mescolato bene il pigmento nero mi sa però vabbè rende l'idea comunque diana è la gattina grigio chiaro quindi direi che rende l'idea carina niente di che però lo stampo non l'avevo fatto benissimo vedete che non so se si vede comunque dalla creazione si dovrebbe vedere vedete avevo fatto un po' male la luna poi era tipo mezzo opaco mezzo lucido non lo so che cosa ho combinato proverò a rifare anche quello devo decidermi a provare a fare gli stampi con la gomma siliconica da colata mi dimentico sempre ora ho provato a fare una cosa strana per il braccialetto a gatto tanto vediamo tirarlo fuori senza romperlo che può essere utile ok allora come vedete ha questo effetto dentro molto particolare e l'ho fatto sempre con una cosina che mi è stata regalata era una confezione di plastica con questa specie di sembra sale grosso in realtà è tipo una sabbia profumata e ha un odore buonissimo mio dio non so definire l'odore perché l'ho sentito solo una volta in un mio vecchio diario segreto di quando ero bambino aveva quel profumo ed è buonissimo la cosa strana è che questo sale chiamiamolo così questo sale profumato era rosa chiaro no? e io qui avevo fatto la resina azzurra non era violetta e appunto si sono mischiati i colori ed è venuto questo carinissimo lilla quasi azzurlilla trasparente molto carino questo effetto mi piace ah e tra l'altro visto che avevo fatto troppa resina per quel bracciale l'altra l'avevo colata qui e quindi niente ecco qui un cuore abbastanza inutile e però vabbè non volevo buttarlo scarto perché era comunque una cosa abbastanza carina e basta niente eccola qua il bracciale mi piace di più sicuramente ok ora rimangono solo le creazioni con gli stickers quindi passiamo a questa che l'avevo fatta proprio alla cavolo perché non sapevo cosa metterci anche questo è uno stampo che mi è stato regalato bello lucido no dai non è malissimo no aspetta ho sbagliato i colori allora il colore dietro mi è venuto bello ok a parte questo puntino di pigmento lo sticker si è un po' piegato ma il punto è che io ricordavo che avesse i contorni oro e quindi ci ho messo i cuoricini oro e invece c'è l'argento epic fail Erika vabbè questo non è proprio un gran che più che altro mio dio guardate qua dietro cioè potrei ucciderci qualcuno con questa cosa devo stare attenta poi ragazzi qualcuno mi ha regalato questi vi ricordate quanto io volessi i cuoricini con questa forma un po' particolare e me li hanno regalati sono contentissima allora vediamo un po' come vengono mi sa che queste creazioni le ho fatte particolarmente alte sia abbastanza carino insomma non è venuto niente di esaltante però è carino dai la forma comunque è bellissima vediamo quest'altro che non mi ricordo assolutamente cosa c'è sotto ah sì questo è carino guardate che carino l'alieno di Toy Story eh sì ha assorbito un pochino la resina intorno però c'è il contorno che è tutto pari sembra fatto apposta e appunto visto che è un alieno ci ho messo dietro un paio di stelline e qualche glitter argento per fare un pochino l'effetto galassia e vabbè dai non è male niente di che però la forma guardate quanto è bello lucido la forma di questo guarda è bellissimo mio dio grazie mille che me l'ha regalato ti amo allora vorrei passare prima a questi che se non sbaglio che se non sbaglio non sono niente di esaltante soprattutto questo che allora questo è uno sticker che mi è stato regalato sempre ecco appunto io avevo messo i glitter dappertutto quando vado a controllare la resina era già asciutta quindi non potevo più spostarli e si erano spostati tutti al centro e che cavolo è successo e quindi mi dispiace per lo sticker che era molto carino ma questa creazione fa schifo poi questa dovrebbe essere più carina anche perché non mi ricordavo di avere dei glitter di questo azzurro meraviglioso e quindi ho usato una tonnellata di questi come sfondo oh che carino anche questo è sempre lo sticker fatto come quell'altro cavolo è assorbito un po' non era plastificato bene però cioè guardate quanto è bello come sfondo del mare diciamo questo mix di glitter bellissimo e poi niente qui ci ho messo un fiocchettino azzurro poi infine per questo stampo questo ti prego deve essere bello per forza altro sticker oddio mamma mia è tutt'altro che asciutto il retro vabbè vi faccio vedere alla veloce poi lo rimetto dentro è bellissimo questo mio dio allora intanto questa immagine l'amo da morire questa specie di smorgatto ciccione è bellissimo poi sotto ci ho messo lo sfondo rosa pastello perlato e ci ho messo tutti gli zuccherini sono zuccherini finti e sono bellissimi oh mio dio no qui c'è una bolla dannazione vabbè è bellissimo lo stesso la bolla non mi farà cambiare idea un attimo che lo rimetto dentro perché mamma mia non è per niente asciutto cioè guardate c'è la mia ditata aiuto ok rimane lì asciugati bene ah e giusto quando ho fatto la polaroid mi era avanzata anche la resina che non volevo buttar via e ci ho fatto questo cavolo è carino penso che ci attaccherò uno sticker sopra e ci colorerò un altro straterrino di resina perché è molto carino prima di passare a queste due che sono quelle che mi interessano di più passo a questa qua c'era una bolla che a quanto pare si è scoppiata a un certo punto anche qui c'è uno sticker fatto da voi vediamo un po' come è venuta allora vediamo un po' sembra bianco in realtà è rosa ma ok oh 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 cavolo sarebbe stata bella se lo sticker non si fosse spostato e non avesse assorbito è un peccato ho provato a far rire meglio possibile lo scotch per non per non farlo assorbire ma meh purtroppo non ha funzionato niente e per il resto sarebbe stata molto carina se appunto fosse stata al centro e non bagnata di resina oh quanti fail oggi mi dispiace un sacco allora adesso questa spero che sia venuta bene perché ci tengo molto anche questa è abbastanza morbidina quindi faccio veloce poi la rimetto dentro questa ci tengo molto perché è una cosa che ho fatto per voi quindi vediamo dai non è male non è niente di che però io non riesco a mettere mai bene perfettamente dritte queste rette è una cosa troppo difficile vi giuro però questa l'ho fatta per voi perché vi adoro lo sapete e quindi ho voluto fare questa creazione dedicata a tutti voi che state guardando questo video e niente adesso mamma mia guardate qua dietro cosa sta succedendo rimettiamola via salviamola poverina com'è nuova infine questa che è un esperimento che ho fatto anche qui non è ancora di tutto asciutta ma che cavolo è successo oggi no vabbè mi piace troppo oh mio dio la scritta cute è una creazione in resina ho provato a metterci una creazione in resina e sembra bianca in realtà è rosa però ok e poi ci ho fatto lo sfondo nero con i glitter rosa che sembrano verdi what vabbè saranno iridescenti e quindi hanno vari riflessi io li vedo verdi in realtà erano rosa comunque è venuta benissimo si è inglobata perfettamente e non ha neanche fatto bolle strano mi piace un sacco bene da oggi in poi farò più spesso creazioni in resina con dentro creazioni in resina guardate questo stampo una volta era lucidissimo ormai a forza di usarlo sta diventando opaco vedete questo è opaco questo è lucido ma non lo uso mai perché c'è tipo questo coso che sembra un brufolo tra l'altro e mi farebbe il difetto sulla creazione e mi rompe le scatole e niente sta diventando opaco devo trovarne un altro aiuto no no che cacchio no ti prego no la mia la mia la mia conchiglia no va bene va bene va bene anche questo decisamente non è asciutto mettiamolo dove era pikachu invece no ma santo cielo queste dannate creazioni che non si asciugano guardate ma cosa sta succedendo allora ok ragazzi queste sono le creazioni del video di oggi io spero che vi siano piaciute allora la mia preferita devo dire che mi fa impazzire questa quella scritta cute mi piace moltissimo è venuta benissimo e anche questa la mia carissima conchiglietta e fatevi sapere quali sono le vostre preferite io vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao ciao